Voci di preoccupazione per CISA Legion che a Faenza rappresenta 350 lavoratori. Qual è la situazione? La situazione è una situazione che noi non vediamo come critica ma sicuramente siamo preoccupati. Siamo preoccupati perché in questo momento la legislazione non dà indicazioni particolari per il sostegno all'economia e in un momento in cui il settore in cui CISA lavora è in grossa crisi soprattutto sui mercati esteri è chiaro che i numeri quando incominciano a non tornare noi ci preoccupiamo. Inoltre ci sono delle voci all'interno delle aziende, sappiamo un po' che ogni leggenda ha il suo fondo di verità quindi noi ci stiamo adoperando per fare degli incontri prima di tutto con i lavoratori che sono la nostra parte la parte che noi rappresentiamo e difendiamo ma per mettere la direzione di CISA di fronte a delle domande che ci diano delle risposte concrete perché se effettivamente problemi non ce ne sono vogliamo anche vetare tutte le paure che sono all'interno di CISA. È vero che CISA ha sviluppato aziende o meglio stabilimenti all'estero in particolar modo in Albania? Allora, un discorso un po' complicato. Sicuramente CISA facendo parte di una multinazionale che è All Legion ha diversi siti produttivi spesso non sono nemmeno di proprietà di CISA ma sono lavori che dà in appalto e in parte sicuramente ci sono le produzioni anche albanesi che dovevano essere chiusi all'inizio del precedente periodo quello che insomma ha dato l'apertura a quella che viene chiamata ristrutturazione del sito Faintino l'Albania doveva essere chiusa poi invece visto che il piano non è andato esattamente come la multinazionale si aspettava hanno dovuto riaprire il sito che sta lavorando. Che cosa vi aspettate dall'incontro con la proprietà il 18 febbraio? Ma allora non abbiamo una prospettiva di risposte certe per il 18. Noi lavoriamo costantemente però assieme alla direzione di CISA perché abbiamo dei rapporti non dico mensili ma insomma ci sentiamo spesso. Il 18 febbraio però sarà un incontro molto importante in quanto in quell'incontro quello che una volta veniva chiamato l'incontro annuale che da qualche anno però con l'incedere della procedura di ristrutturazione non si era più fatto lì la multinazionale ci dà le prospettive future quindi ci illustra quelli che saranno i nuovi prodotti quelli che saranno le linee guida della produzione del sito. È chiaro che anche lì li incalzeremo con delle domande. Non è detto che però ci rispondano in quell'occasione.